Libro di Matteo, capitolo 4 Sta scritto, l'uomo non vivrà di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo trasportò nella santa città, lo pose sull'orlo del tempio e gli disse, Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto, Egli darà ordine ai suoi angeli riguardo a te, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché non urti col tuo piede in alcuna pietra. Gesù gli disse, sta anche scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo trasportò sopra un monte altissimo, e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. Egli disse, io ti darò tutte queste cose, se prostrandoti a terra mi adori. Allora Gesù gli disse, battene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e servi a lui solo. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si accostarono e lo servirono. Or Gesù, avendo udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò nella Galilea. Poi lasciò Nazareth e venne ad abitare a Capernaum, città posta sulla riva del mare, ai confini di Zabulon e di Neftali, affinché si adiempisse ciò che fu detto dal profeta Esaia, quando disse, il paese di Zabulon e il paese di Neftali, sulla riva del mare, la regione al di là del Giordano, la Galilea dei Gentili, Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce, e su coloro che giacevano nella regione, nell'ombra della morte, si è elevata la luce. Or Gesù, camminando lungo il mare della Galilea, vide due fratelli, Simone, detto Pietro, e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete nel mare, poiché erano pescatori, e disse loro, E proseguendo il cammino, vide due altri fratelli, Giacomo, il figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, nella barca con Zebedeo, loro padre, i quali riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi, lasciata prontamente la barca e il loro padre, lo seguirono. E Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoge, predicando l'Evangelo del Regno, guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E la sua fama si sparse per tutta la Siria, e gli si presentarono tutti malati, colpiti da varie infermità e dolori, indemoniati, epilettici, paralitici, ed egli li guarì. E grandi folle lo seguivano dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea, e tra oltre il Giordano. Libro di Matteo, capitolo 4 Libro di Luca, capitolo 4 Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo Spirito nel deserto, e per quaranta giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, alla fine egli ebbe fame. E il diavolo gli disse, Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte, e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse, Io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essa mi è stata data nelle mani, e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutta tua. Ma Gesù rispondendo gli disse, Vattene via da me, Satana, perché sta scritto, Adore il Signore Dio tuo, e servi a Lui solo. Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse, Se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto, Egli comanderà i suoi angeli attorno a te di custodirti. Ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E Gesù rispondendo gli disse, E' stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. E quando il diavolo ebbe finito, ogni tentazione si allontanò da Lui fino ad un certo tempo. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne ritornò in Galilea, E la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Ed egli insegnava nelle loro sinagogue, essendo onorato da tutti. Poi venne a Nazareth, dove era cresciuto, E, come era solito fare il giorno di sabato, Entrò nella sinagoga e si alzò per leggere. Egli fu dato in mano il libro del profeta Esaia, Lo aprì e trovò quel passo dove era scritto Lo Spirito del Signore è sopra di me, Perché mi ha unto per evangelizzare i poveri, Mi ha mandato per guarire quelli che hanno il cuore rotto, Per proclamare la liberazione ai prigionieri, E il recupero della vista ai ciechi, Per rimettere libertà agli oppressi, E per predicare l'anno accettevole del Signore. Poi, chiuso il libro e reso dall'inserviente, Si pose a sedere, E gli occhi di tutti nella sinagoga Erano fissi su di lui. Allora cominciò a dir loro, Oggi questa scrittura si è adempiuta nei vostri orecchi. E tutti si rendevano testimonianza E si meravigliavano delle parole di grazia Che uscivano dalla sua bocca, E dicevano, Non è costui il figlio di Giuseppe? Ed egli disse loro, Certamente voi mi citerete questo proverbio, Medico cura te stesso. Tutto ciò che abbiamo dito, Essere avvenuto a Copernaum, Fallo anche qui nella tua patria. Ma egli gli disse, In verità vi dico, Che nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi vi dico in verità, Che al tempo di Elia, Quando il cielo fu serrato tre anni e sei mesi, E vi fu una grande fame in tutto il paese, Vi erano molte vedove in Israele. Eppure nessuna di loro fu mandato a Elia. Se non a una vedova, In Sarapeta di Sidone. E al tempo del profeta Eliseo, Vi erano molti lebrosi in Israele. Eppure nessuno di loro fu mandato, Eccetto Naman, il Siro. E nell'udire queste cose, Tutti nella sinagoga furono presi dall'ira. E elevatisi lo cacciarono dalla città, E lo condussero fino al ciglio della sommità del monte, Su cui la loro città era edificata, Per precipitarlo giù. Ma egli, Passando in mezzo a loro, Se ne andò. Poi discese a Capernaum, Città della Galilea, E nei giorni di sabato insegnava la gente, Ed essi si stupivano del suo insegnamento, Perché la sua parola era con autorità. Or, nella sinagoga c'era un uomo, Che aveva uno spirito di un demone immondo, E si mise a gridare a gran voce, Dicendo, Ah, che vi è fra noi e te, O Gesù Nazareno? Sei tu venuto per distruggerci? Io so chi tu sei, Il Santo di Dio. Ma Gesù lo sgridò dicendo, Ammutolisci ed esci da costui. E il demone, Dopo averlo gettato in mezzo a loro, Uscì da lui, Senza fargli alcun male. Allora tutti furono presi da stupore, E si dicevano null'altro, Che parola è mai questa? Egli comanda con autorità e potenza Gli spiriti immondi, E questi escono. E la fama di lui si diffondeva in ogni luogo, Dalla regione all'intorno. Uscito poi dalla sinagoga, Gesù entrò in casa di Simone. Or, la suocera di Simone Era stata colpita da una gran febbre, Egli fecero richiesta per lei. Ed egli, chinatosi su di lei, Sgridò la febbre, E questa la lasciò. Ed ella, Alzatasi prontamente, Si mise a servirli. Al tramontar del sole, Tutti coloro, Che avevano degli infermi colpiti, Da varie malattie, Li condussero da lui, Ed egli impose le mani Su ciascuno di loro, E li guarì. Da molti uscivano demoni, Gridando e dicendo, Tu sei il Cristo, Il figlio di Dio. Ma egli li sgridava, E non permetteva loro di parlare, Perché sapevano, Che egli era il Cristo. Poi, Fattosi giorno, Egli uscì, E andò in un luogo deserto, Ma le folle lo cercavano, E lo raggiunsero, E lo trattenevano, Perché non andasse via da loro. Ma egli disse loro, Bisogna che io annunzi La buona novella del regno di Dio, Anche ad altre città, Perché sono stato mandato per questo. E andava predicando, Nelle sinagoghe della Galilea. Libro di Luca, Capitolo 4 Libro di Luca, Capitolo 5 Ora venne, Che mentre egli stava in piedi, Presso la riva del lago di Gennesaret, E la folla gli si stringeva attorno, Per ascoltare la parola di Dio, Vide due barche urmeggiate alla riva del lago, Dalle quali erano scesi i pescatori, E lavavano le reti. Allora salì su una delle barche, Che era di Simone, E lo pregò di scostarsi un poco da terra. Postosi a sedere, Ammaestrava le folle dalla barca. E quando ebbe finito di parlare, Disse a Simone, Prendi il largo, E calate le vostre reti per pescare. E Simone rispondendo gli disse, Maestro, Ci siamo affaticati tutta la notte, E non abbiamo preso nulla, Però alla tua parola, Calerò la rete. E fatto ciò, Presero una tale quantità di pesci, Che la rete si rompeva. Allora fecero cenno ai loro compagni, Che erano nell'altra barca, Perché venissero ad aiutarli. Ed essi vennero, E riempirono tutte e due le barche, Tanto che stavano affondando. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù, Dicendo, Signora, Allontanati da me, Perché sono un uomo peccatore. Infatti Pietro, E tutti quelli che erano con lui, Furono presi da grande stupore, Per la quantità di pesci che avevano preso. Lo stesso avvenne pure a Giacomo, E a Giovanni, Figli di Zebedeo, Che erano compagni di Simone. Allora Gesù disse a Simone, Non temere, Da ora in avanti, Tu sarai pescatore di uomini. Essi quindi, Tirati in secco le barche, Lasciarono ogni cosa, E lo seguirono. Ora avvenne, Che mentre egli si trovava in una di quelle città, Ecco un uomo tutto coperto di lebra, Che veduto Gesù, Si postrò con la fraccia a terra, E lo pregò dicendo, Signore, Se vuoi tu puoi mondarmi. Allora egli, Distesa la mano, Lo toccò dicendo, Sì, Io lo voglio, Sì, Mondato. E subito la lebra lo lasciò. E Gesù gli comandò, Non dirlo a nessuno, Ma va, Mostrati al sacerdote, E fa un'offerta per la tua purificazione, Come ha ordinato Mosè, In testimonianza a loro. E la sua fama si diffondeva sempre più, E grandi folle si radunavano per udirlo, E per essere da lui guarite, Dalle loro infermità. Ma egli si ritirava in luoghi solitari, E pregava. Ora un giorno, Avvenne che mentre egli insegnava, Erano là seduti dei farisei, E dei dottori della legge, I quali erano venuti da tutti i villaggi della Galilea, Della Giudea e da Gerusalemme, E la potenza del Signore era con lui, Per guarirli. Ed ecco, Alcuni uomini portavano sopra un letto, Un uomo paralitico, E cercavano di portarlo dentro, E di metterlo davanti a lui. Ma, non trovando il modo per introdurlo a causa della folla, Salirono sul tetto della casa, E lo calarono attraverso le tegole con il lettuccio, Proprio in mezzo davanti a Gesù. Ed egli, veduta la loro fede, Disse a quello, Uomo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora gli scrivi e i farisei cominciarono a ragionare, Dicendo, Chi è costui che pronunzia bestemmie? Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? Ma Gesù, Conosciuti i loro pensieri, Prese la parola e disse loro, Che ragionate nei vostri cuori? Che cos'è più facile dire, I tuoi peccati ti sono perdonati, Oppure, Alzati e cammina. Ora, Affinché sappiate che il figlio dell'uomo Ha autorità sulla terra di perdonare i peccati, Io ti dico, Disse al paralitico, Alzati, Prendi il tuo lettuccio E va a casa tua. E subito quell'uomo si alzò davanti a loro, Prese il lettuccio su cui era disteso, E se ne andò a casa sua glorificando Dio. E tutti furono presi da stupore, E glorificavano Dio. E pieni di paura dicevano, Oggi abbiamo visto delle cose sorprendenti. E dopo queste cose, Egli uscì, E vide un pubblicano di nome Levi, Che sedeva al banco delle imposte, Egli disse, Seguimi. Ed egli, Lasciato ogni cosa, Si alzò e lo seguì. Poi Levi, Gli preparò un gran banchetto a casa sua, E una grande folla di pubblicani e di altri, Erano a tavola con loro. Ma gli iscrivi ai farisei in quel luogo, Mormoravano contro i discepoli di Gesù, Dicendo, Perché mangiate e bevete con i pubblicani e i peccatori? E Gesù rispondendo disse loro, Non sono i sani che hanno bisogno del medico, Ma i malati. Io non sono venuto a chiamare al ravvedimento i giusti, Ma i peccatori. Allora essi gli dissero, Perché i discepoli di Giovanni, E anche quelli dei farisei, Digiunano spesso e fanno preghiere, Mentre i tuoi mangiano e bevano? Ed egli disse loro, Potete voi far digiunare gli amici dello sposo, Mentre lo sposo è con loro? Ma verranno i giorni in cui lo sposo sarà loro tolto, E allora in quei giorni digiuneranno. Inoltre disse loro una parabola, Nessuno cuce un pezzo di un vestito nuovo su un vestito vecchio, Altrimenti strappa anche il nuovo, E il pezzo tolto dal nuovo non si adatta al vecchio. E nessuno mette vino nuovo in otri vecchi, Altrimenti il vino nuovo rompe gli otri, Ed esso si spande e gli otri vanno perduti. Ma bisogna mettere il vino nuovo in otri nuovi, Così tutti e due si conservano. Nessuno poi, avendo bevuto del vino vecchio, Ne vuole subito del nuovo, Perché egli dice, Il vecchio è migliore. Libro di Luca, capitolo 5